paddock the motorsport magazine in collaborazione con il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 dobbiamo ripeterlo lo facciamo dopo però lo faremo dopo prima del moto poi il gossip è fantastica ne sono venute fuori tutti i colori però non c'era l'audio perché ci rimane invece partiamo dal Dovi tutti i pazzi per il Dovi se lo merita dediciamo lui l'apertura ma non solo l'applauso assolutamente lo rifacciamo eccoci qua allora ma guarda io ripeto quello che ho detto prima non è che un canovaccio per cui cerco di non c'è nemmeno il gobbo voglio dire io lo paragono a Ediloso pilota del 500 che era il mio favorito che era un pilota cattivo determinato e campione del mondo vero non era di tanti non era il Mammola, il Kenny Roberts, il Freddy Spencer che erano gente un po' come Marquez dei grandi talenti il Dovi è più Mammola piccolo talentino si però piacevano tantissimo al pubblico se devi dare un gare meraviglioso Roberts era giro tra Schwanz e Mammola c'è un ma si però beh intanto Mammola ha sempre fatto secondo nei mondiali Schwanz no va bene ho capito ma tante volte Mammola dava spettacolo alla gente era bellissimo va bene ognuno poi dei piloti ha la propria idea io sarà perché Mammola ce l'ho avuto stiamo sul Dovi il Dovi è un pilota che in questo momento ha fatto un salto di qualità che non ha fatto in tutta la sua carriera salto di qualità che secondo me ma io lo dicevo lo dicevo prima nei momenti in cui non eravamo collegati e ho subito insulti ma non hanno capito quello che volevo dire cioè io penso che si è servito moltissimo l'anno del la scorsa stagione quando erano lo vizioso i due andrè erano assieme era un ambiente molto teso era difficile infatti dove qualcosa ha patito come ha patito anche l'altro credo che l'abbia un po' fortificato un 10% non di più però un 10% per arrivare al 100% se non fai il 10% te ne rimangono 90% poi lui poi ripete questo concetto che il gasolio non ha l'ha capito non l'ho capito lo scrive nel libro se fai i 10% se te ne rimane 90% non ci arrivi non te ne rimane 100% meno 90% sono 10% va bene scusa l'interruzione poi lui chiaramente si è sentito il capo squadra all'arrivo di Lorenzo stra pagato per me è troppo stra pagato però c'è ancora margine di tempo per capire se se è stra pagato è già troppo va bene ragazzi ho 24 milioni in due anni vedi tu la differenza tra Vignale e Serossi a livello di pagamento ci ho detto penso che lui si è sentito ci ho detto ho detto la differenza ho capito anche Vignale e Serossi hanno una bella differenza e Vignale rimane davanti comunque io sono d'accordo con te ma io ho fatto allora parliamo sempre io ho detto che non è ancora arrivato Lorenzo arriva 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 ma non posso dire che è già arrivato perché direi una spedaggine carnetto ma ce la fa Dovizioso in quella posizione allora Dovizioso ha preso coscienza è il Dovizioso più bello della sua carriera ha battuto Marquez come batti Marquez ha battuto Valentino come si batte Valentina ha battuto Vignales come si batte Vignales Lorenzo l'ha fatto fuori tutte le gare cioè a questo punto più di così cosa deve fare e ha vinto anche nel modo in cui vinceva Marquez ricordatevi due gare fa ha fatto le cose che avrebbe fatto ok da piloti invece Gigi Dario Gasolio Adriano scusate voi che avete il corso cosa vedete di diverso nel Dovi rispetto a quello che non ci ha fatto vedere per 160 gran premi un Lorenzo sicuramente in squadra che è un uomo squadra per Ducati perché bisogna anche dire bravo a Lorenzo quando sotto il podio comunque ha esaltato la prestazione del Dovi ma rimaniamo sul Dovi però io penso che la vicinanza la vicinanza di un pluricampione del mondo sicuramente è stato da stimolo anche per Andrea poi c'è stata una crescita sua personale penso sua con questa tipologia di moto che è sicuramente competitiva un applauso anche a Ducati per il grande lavoro che ha fatto ha fatto un salto gigantesco da com'era prima l'anno scorso a com'è quest'anno non ha più timore reverenziale rispetto ai suoi più forti come hai visto Marquez l'ha attaccato gli ha risposto immediatamente non ha esitato e anche quando l'ha sorpassato qui a Silverstone l'ha sorpassato immediatamente e poi è andato perciò si sente sicuro si sente sicuro delle sue possibilità si sente forte come loro se non di più perciò ha fatto un passo da gigante e credo che sia possibile che lui possa venire la mondiale quest'anno perché è veramente molto forte ok scusa faccio il giro e arrivo Gigi poi Dario credo che lui in questi anni penso più alle Ducati ci sia mancato l'esperienza di Lorenzo che ha fatto una moto che possono guidare tutti come è stata la Yamaha perché prima tutti si diceva qua la Ducati deve prendere un pilota che voglio educare la Ducati però come si è parlato io o anche altre persone in questo modo non puoi vincere perché è una moto devi dimostrare di essere competitiva la Yamaha è sempre stata la moto per tutti lui ha guidato per 4 anni questa moto e 5 anni per dirti Giorgio ha guidato 5 anni la Yamaha e ha trasportato la sua esperienza con pazienza perché quando ti dicevo quando uno è un campione capisce quando non puoi farla una cosa e invece quando uno è giovane emotivo prova a farla in questo modo lui ha trasportato tutto questo probabile tutto questo mix di gomme che aiuta questa moto però diciamo di base la motocicletta è cambiata in bene perché dopo Barcellona dopo il test che hanno fatto tutte queste cose lui adesso qua una corre con le alette l'altro senza però anche questa conoscenza secondo me ti dico per me hanno speso benissimi contrario di quello che pensa Carlo è un investimento ok perfetto sento tutti Dario poi arrivo da Palazzoli Mariani e gli altri ci mancherebbe altro secondo me sicuramente l'arrivo di Lorenzo in squadra è stata una grande motivazione per Andrea quanto poi abbia inciso sullo sviluppo della moto non lo so anche perché fino a qualche gara fa si diceva che ancora Ducati era la moto adatta ad un pilota stupido come poteva essere stoner cioè occhi chiusi sempre averne di stupidi così eh di fatti bruscolini si è capottato io l'ho sentito il rumore della sedia si è capottato da lui però sicuramente l'avere in squadra un campione come Lorenzo e riuscire a stargli davanti io penso che ti dia una carica che non insomma ti aiuta sicuramente poi sentiamo anche Brusco se mi dite che il collegamento audio va bene Palazzoli poi Mariani Pino gli altri far notare una cosa che a me ha impressionato molto io nella preistoria ho corso anch'io moto e macchine e le gomme stanno stanno avendo una particolarità che aiuta sia lo sport delle due ruote perché per esempio domenica Vinale scorreva con la gomma morbida dietro Valentino però stranamente vuol dire che la Micina non ha lavorato bene non andiamo stiamo sul dovi però vi prego adesso dopo andiamo a parlare sì sì ma vi prego stiamo sul dovi dicevo solo che stanno lavorando molto molto bene i piloti che si rendono conto di cosa hanno in mano perché abbiamo visto anche a Spa che la Pirelli aveva portato Ultra Soft Super Soft Ultra Soft e che Hamilton con delle soft cioè i gomme più dure è riuscito a girare e a stare sempre davanti a Fettel che aveva delle Ultra Soft e addirittura la Pirelli dice che c'era un secondo e quattro di differenza quindi vuol dire che ok Mariani io contraddico il mio amico adoro contraddire se non mi divertirei siamo qua apposta secondo me l'anno scorso Dovizioso ha perso un anno non ha guadagnato un'esperienza con Iannone perché è un fatto nel senso che non è che ha il 10 che gli mancava arriva dall'esperienza con Iannone perché Iannone ha secondo me ostacolato la realizzazione della Ducati che doveva lavorare per la moto che va bene sempre e con tutti sicuramente la personalità e l'esperienza che ha avuto Lorenzo che non dimentichiamoci era veloce ma era un pivello quando è arrivato in Yamaha a confronto a Rossi e Rossi è uno che ha scritto la storia di motociclismo per esperienza e ci sono un sacco di case eclatanti i top driver quasi tutti i top driver hanno avuto un anno o due di fianco al super campione che ti insegna come approcciare la messa a punto dal punto di vista tecnico secondo te Lorenzo ha insegnato l'anno scorso Dovizioso c'era ma non so se è vero ma ho letto da più parti che Lorenzo sta facendo tuttora una grande battaglia per cambiare le caratteristiche di erogazione del motore e la Ducati guarda Carlo se me l'ha già vinta l'ha già vinta i risultati si vedono ma l'ha fatta Lorenzo la battaglia l'anno scorso Iannone e i due italiani da soli non si sono usciti ma l'ha fatta anche Dovi dai cosa dici l'ha fatta Dovi ma quando parlava scusa Dovi se non lo pagava dieci volte di più Dovi veniva considerato un buon pilota adesso Dovi che è molto più bravo di quello che è stato considerato perché i risultati sono qui ha avuto la fortuna di uno che dall'alto dei soldi che guadagna dall'alto dei titoli mondiali dall'alto dell'esperienza in top team ha aiutato la Ducati a prendere la via giusta io la vedo così io no purtroppo no non perché ti spiego io alla fine mi chiedo dove fosse nascosto in quale angolo di Dovizioso fosse nascosto il campione e come mai ci ha messo così tanti anni a venire fuori perché io me lo ricordo quando correva nella 250 lui correva in un modo diverso da tutti gli altri si capiva che aveva altri numeri li vedevi tre volte all'anno quando doveva vincere vinceva allora lì capivi che aveva le qualità fuori al comune poi caspita non dimentichiamoci che ha avuto fior di Yamaha ufficiali Honda Honda ufficiali cioè ha corso con il meglio che c'era gli altri vincevano lui non combinava niente e Yamaha no Yamaha era un contatto era un bel era più Honda che LC però in Honda ha vinto una gara perché era umido sul bagnato no ma dove era cioè io mi chiedo qual è stato il progresso psicologico qua ci vorrebbe il professor Vittorino Andreoli a spiegare però ma certamente è un discorso mentale è un discorso mentale poi c'è anche un discorso tecnico tu devi avere la moto con cui ti senti si è trovato la moto con cui ti senti dieci anni di duro lavoro e di dati che ha accumulato li ha sfruttati grazie anche alla lunga permanenza in Ducati e ha fatto filotto io penso ma gli serviva la spinta ma il campione dentro c'era ma c'era prima perché sennò non dice mondiale allora lui è stato il pilota credo è stato più in Ducati il quinto anno questo e questa è già una cosa importante hai incontrato un ingegnere come Dalligna con cui è andata abbastanza d'accordo dall'inizio questo è anche vero prima non era proprio così sai quando poi il tuo ingegnere che fa la moto crede molto in te nel fare la moto alla fine qualcosa se sei bravo viene fuori qualcosa psicologicamente si è sentito il capo quest'anno il capo punto di riferimento della Ducati forse gli mancava quello non lo so sai quella poca fiducia il pilota poi è mentale ragazzi forse è incazzato forse è incazzato quello ci sta la grata questo secondo me è la verità per me non c'entra niente forse è incazzato perché la Ducati gli ha dimezzato l'ingaggio ma che dimezzato può darsi però poi ragazzi scusate non è che corre gratis Carlo adesso voglio dire si parla corre meno di quello che lui meritava quello te lo posso garantire conoscendo le cifre però voglio dire si parla comunque di qualche milione immagino un milione e mezzo sembra un milione e mezzo stagione per 5 anni magari poi ci saranno dei premi che saranno 3 volte più grandi magari se fossi il suo manager ma niente mi sembra Battistella avrei detto benissimo io accetto questo se però finisco il mondiale davanti mi dai 6-7 milioni Simone Battistella che salutiamo che è molto bravo ciao Simone e quindi io avrei fatto un discorso di sto genere Gigi volevi intervenire ancora ti chiedo scusa mi fai fare una pubblicità e poi ricomincio da te e agli altri se vogliono intervenire state lì torniamo subito Paddock di Motorsport Magazine in collaborazione con Tesoro non volevi una city car guarda quante si ma la volevo più cabrio sai che sono un tipo esigente eccola ma sai che forse è meglio una berlina sai che sono un tipo esigente ecco la novità assoluta e se fosse un SUV sai sono un tipo esigente SUV ti bastano questi? ma veramente li volevo più affusolati guarda la tua sportiva ma la volevo più più sai sono esigente più larga più ruote più cos'ha sono esigente ma è possibile? con le centinaia di auto che ci sono da affassinare neanche una ti va bene? sai cosa ti dico? l'auto me la scelgo con chi dico io sono un tipo esigente io da affassina l'auto che cerchi c'è anche per i più esigenti scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via 1 a 15 a Milano eccoci di nuovo in onda grazie in tantissimi che scrivono tanti che mi dicono come Danilo Assassello che dice mi spiace notare che la stampa italiana di colore rosa non ha dato le quattro vittorie del binomio Ducati di Uvizioso una giusta importanza mentre invece si lodano prestazioni pseudo buone di altri personaggi non sarebbe ora di cambiare un po' in linea editoriale non lo so in tanti mi segnalano invece un articolo di Scalera non so se il titolo l'ha fatto lui su quello dello sport Valentino parte in pole dietro a Marquez ha scritto giuro adesso non so come farvelo vedere per il fatto che Andrea abbia aiutato un altro Andrea ma forse non avete capito quello che voglio dire detto che gli ha servito o no che l'ha aiutato io penso che gli sia servito come stimolo certamente oh cavolo io penso che gli è servito a niente a niente poca roba a niente per me beh a niente no per il semplice motivo che alla fine Andrea è uno cioè la Ducati aveva bisogno di una direzione Andrea è un emotivo ma allora perché la Ducati aveva scelto di tenere Iannone scusa ma allora ti faccio una domanda non capivano niente però alla fine allo stesso discorso si parlava prima il Dovi l'hanno ha fatto un bellissimo anno con una Yamaha con una moto che usano tutti che usano tutti se lui mettiamo che Mariani fosse da linea io ho 5 anni Doviziosi in squadra in squadra ho 4 anni in 4 anni parlerai con me se io ho la direzione in 4 anni arriverò perché sono arrivato solo quest'anno perché serviva una spinta bravo serviva una cosa diversa serviva uno che ha veramente vinto e costruito la Yamaha più degli altri ma ragazzi ma la Ducati la fa l'ingegnere da linea che suggerimenti voi che voglia da Lorenzo che ha guidato una Yamaha ma cosa dici ma se all'inizio dell'anno la seconda corsa eravamo qua che dicevamo che è un disastro è un disastro è un disastro sai come fanno i motoristi sai come fanno i motoristi sulle automobili che conta molto di meno l'erogazione rispetto perché i problemi di consumo gomme tu lo sai che ogni volta che dai coppia la gomma a un micro sappiamo tutto sai quanto ci hanno speso a dire che la Ducati adesso la Ducati non svernigia più nessuno sul rettilineo è vero e allora cosa ha fatto ma perché non l'ha fatto cinque anni fa è vero perché non l'ha fatto cinque anni fa è così lampante perché non ce l'ha fatta vi ricordate Paolo Blora qualche puntata fa gli aveva detto che l'aveva detto anche Lorenzo gli ha detto guarda piantiamo lì col motore che non si non l'ha mai detto l'anno scorso c'ero io dentro ogni grabber dicevano basta con i cavalli allora però ti dico una cosa ma si che gli hanno dato retta ha fatto le alette l'ha rifatto per quello perché non ti danno retta ma come non gli ha dato retta ma tanto la combinazione che è arrivato questa se non vi parlo di carisma di un pilota tecnico allora quello perché dà un retta su macchina e non una barichella secondo te Lorenzo ha carisma tecnico mi piacerebbe sapere quali sono le cose che Lorenzo ha avvallato per far andare meglio questa moto ma per piacere quali sono per favore scusa voglio dire il caso che poi arrivo arrivo Patrizio vai quali sono i componenti meccanici o i cambiamenti che Lorenzo ha avvallato per far andare meglio questa moto guarda quello sicuramente lo sapeva solo lui ma la verità è che lui sapeva quello che gli mancava perché da quando è arrivata la carena non è cominciato a stare davanti perciò è uno che come quello ha usato ancora la vecchia lui è uno che come quello sa anche altre cose per dire che poi lui gli serve un qualcosa in più può essere anche ma però frena Carlo prima che facessero il test a Barcellona non starà davanti nessuno della Ducati Gigi la carena è un palliativo perciò bisogna vedere anche le altre cose perché dice un palliativo la carena è un palliativo perché nelle cure fai 100 l'ora fai 150 l'ora non fai 3 se mi inserire ti aiuta qui 3 senti Carlo che l'anno scorso è stato i primi ma lo sapete se tu usi un programma di aerodinamico che avrà fatto anche per le moto tu fai le tue simulazioni con l'aeromap si chiama e tu vedi metto l'alettone così guardi quanti chili genera quell'alettone fa 2 chili in più 2 chili in più niente i 2 chili in più quando sei al limite è farla piena o non farla piena ti cambia completamente per 2 chili quel piccolo device che hanno fatto farà 1,5 kg 2,3 kg non lo so ma funziona e infatti l'ha fatto tutti se no l'hanno copiato perché funzionava fanno le simulazioni con il CFD sulle biciclette da corsa quando tu da 300 a l'ora passi a 90 a l'ora 120 a l'ora 150 a l'ora e ti inserisci in curva l'aerodinamicità in quel punto guarda che ti aiuta anche a fermarti ma ti aiuta poco ti aiuta a fermarti te lo spiego anche perché perché io una volta come gli amave avevo una carinatura che era molto rotonda ti spiego questo e in rettilineo la moto non galleggiava cioè non andava diretta allora abbiamo chiesto di fare delle alette hanno fatto delle alette e la moto stava stabile ma l'inserimento in curva era tale e quale prima ad oggi lascia a perdere questo che hai messo delle alette questi qui ti dico una cosa se sulle biciclette da corsa passano le giornate al CFD simulando la posizione perfetta per fare il cronometro ha fatto il giro di Monza il giro d'Italia da solo a 60 di media vuol dire che non è solo potenza muscolare hanno messo a punto tutto vuoi che su una motocicletta che fa 360 all'ora che genera un carico mostruoso non ci lavori tanto è vero che è un punto chiave c'è una cosa da chiarire che l'aerodinamica su una moto soprattutto per quanto riguarda le alette è estremamente più portante perché si muove molto di più di un'automobile cioè quando arrivi in frenata è come se tu aprissi o chiudessi un elettone ci aveva provato un certo Alan Jenkins esatto alla Ducati alla Ducati 10-15 anni una per volta a casa non capisco finisce Alessandro finisci poi riguardo al discorso di Lorenzo io l'ho fatto con i Dammarelli l'avevo già detto e lo ripeto il grande segreto di Valentino quando è arrivata in Yamaha la Yamaha prima che arrivasse Valentino era dispersa è stata quando c'è stato la prima 2008 la prima volta ha vinto la prima gara con la Yamaha mi ricordo forse a Filippa 2003 non so quando che era è stato l'avvento dell'elettronica la Yamaha usava Amarelli la Amarelli era avanti anni luce perché era la prima che ha fatto di tutto e di più sulla Formula 1 per travasare l'esperienza delle automobili Valentino che è uno molto intelligente che ha una grande esperienza ha messo a posto il motore l'elettronica del motore per fare la differenza questo è storia quindi quest'altro che arriva il signor sanno e te lo dico perché lo facciamo ogni gara noi se vuoi il motore che anticipa di lì lo regoli è un indirizzo che con i numeri in sala prova vedi con difficoltà di cui il pilota e il carisma del pilota è fondamentale io penso che lui ha merito di Dovizioso punto ma anche lui è sicuramente il merito il più grosso merito di Dovizioso è arrivata da fuori perché sennò arrivava l'anno scorso ma se tu dici che è così importante l'aerodinamica perché Dovizioso ha vinto con quell'altra e non ha usato quella aerodinamica che tu dici migliore per andare un secondo al giro più forte io non ho mai detto un secondo al giro più forte lo dico io ho fatto ipoteticamente ho detto un tempo però Paolo ci sono piloti non è che fai il primo colpo va subito bene sulla motocicletta e metterla a punto quindi la prima volta che la provi questo ha avuto beneficio da quello che sembra devo dire che fa Andrea ok vi chiedo scusa ho il break pubblicitario poi a rientro abbiamo finalmente anche Bruscolini per cui andiamo a Pesaro così almeno vi infiammiamo ancora di più stai lì Brusco torniamo tra un minuto M Serramenti apri una finestra a risparmio propone due finestre misure 130x150 una porta finestra misura 140x240 una finestra misura 70x150 in PVC bianco profilo beca da 82 mm sette camere doppio o triplo vetro tre guarnizioni in classe A per un grande risparmio energetico al posto di 4200 euro a solo 1950 euro serramenti sui quali beneficerete della detrazione fiscale del 65% rendere efficiente la vostra casa sarà semplice e conveniente chiama ora per un preventivo gratuito al numero verde 800 13 43 43 oppure vieni a toccare con mano la qualità dei nostri prodotti nei nostri showroom siamo a Milano in viale Abruzzi 4 e in via Rembrandt 22 a Ponte Lambro in piazza Vittorio Veneto e a Saronno in viale Europa M Serramenti realizza porte interne porte blindate grate zanzariere finestre in alluminio legno e PVC M Serramenti apri una finestra a risparmio allora eccoci qua uno dei più attivi da casa è Angelo Castorini vi faccio vedere cosa mi sta mandando alcune le avevo perse in Inghilterra dominio Rossi Dovizioso fantastico sempre imparziali la gazzetta che da 9,5 a Rossi e 9,5 a Vignales e poi questo è l'articolo che dicevamo prima Rossi fa il fenomeno e parte in pole dietro a Marquez la firma Paolo Scallera ma vogliamo sperare che Paolino non sia stato lui a scrivere eh no io spero che c'è voglio dire Paolo è di sopra di ogni dubbio Bruscolini a te la linea ciao eccoci qua Brusco tutto bene molto bene Brusco sei carico molto bene io sono carichissimo e volevo dirvi io l'Andrea Dovizioso l'ho conosciuto nel 2000 quando lui arrivò qua a Pesaro perché c'era un tecnico che si chiama Guido Mancini che nell'ordine ha sversato Capirossi Dovizioso Valentino Rossi Penati e Franco Morvidelli ecco sono passati tutti nella serie di Guido Mancini qua a Pesaro e gli preparava la Priglia con la quale Dovizioso nel 2001 ha vinto il campionato europeo e Marcini mi dice guarda Brusco che questo qua va forte un bel po' è un ragazzo un po' particolare è un ragazzo che per andare forte per davvero ha bisogno di tante cose dalla sua ma soprattutto ha bisogno di sentire la moto come vuole Dovi non è uno che rischia a gratis Dovi è uno che rischia se c'è da rischiare questo mi disse io questo non l'ho mai dimenticato io ho sempre considerato Dovizioso un grande pilota purtroppo i miei colleghi no e adesso lo stanno riscoprendo ma neanche a molti direttori hanno considerato Dovizioso un grande pilota e adesso vi spiego questa da adesso secondo me la grande stampa italiana sportiva chiude per un motivo molto semplice perché perché io che ho lavorato per tanti giornali e con molti ho anche litigato e ho vinto le cause sono rimasto amico in qualche redazione e un giorno chiamai un direttore e gli dissi ma oggi il vostro giornale è leggermente valentiniano aveva fatto tre magi tre per dire che Valentino poteva vincere il decimo mondiale ok è leggermente il giornale spostato troppo forse su Valentino e mi hanno risposto dalla redazione con Valentino mangiamo con Dovizioso moriamo ecco da oggi la grande stampa sportiva italiana è morta perché Dovizioso vince e con Dovizioso non mangiano mi sono spiegato bene questo è della regalo se qualcuno non è d'accordo purtroppo ti vediamo in ferma immagine ti sentiamo bene ma adesso non ti vediamo più però Pernat non è d'accordo con te io ti voglio bene sai che ti stimo estremizza però c'è una certa sofferenza vedere che vince Dovizioso invece di Rossi crea sofferenza a tanta gente innanzitutto ho visto la chiesa dello sport è una vittoria di serie B è una prima pagina con la foto di Dovizioso ma lascia perdere io parlo in generale va bene ma no aspettate un attimo aspettate un attimo allora è chiaro che tutte le cose nuove hanno sempre un qualcosa di diverso da quelle vecchie beh quando uno vince quattro gran premi non è poi così nuova ho capito tanto è vero che le prime pagine ci sono io credo che adesso la stampa italiana e anche internazionale stia prendendo molta coscienza della Ducati e di Dovizioso giustamente tant'è vero che c'è un clima molto diverso poi il fatto che Valentino abbia tirato tutti i giornali politici e non politici del moto mondiale ragazzi purtroppo fortunatamente o sfortunatamente è vero io spero che venga l'era Ducati che sostituisca Valentino l'era Ducati vuol dire l'era Dovizioso di di poi verrà anche l'era Lorenzo verrà tutto il momento che Ducati vince con Dovizioso ma altro che pagine faremo un'altra non ti risponderanno più i giornali non si mangia si mangia bisogna farlo lo si sta facendo punto non ci vede una grande per quello che non sono d'accordo con Brusco a cui voglio bene ok chiaro diamo la replica a Brusco e poi vado a tutti gli altri che vogliono parlare Mauri vai io volevo sottolineare una cosa il ha vinto un pilota normale non ha vinto un extraterrestre cioè domenica scorsa ha vinto uno di noi uno che non è un fenomeno è un grande pilota che fino all'altro ieri i giornalisti che erano sempre specorati su certe situazioni lo consideravano un pilota un pilota qualunque lo consideravano un pilota era lui che si faceva considerare non era colpa nostra è arrivato a definirlo un pilota incompleto ecco questi signori qua dovrebbero fare ogni cosa ok vai Gigi io dico che tutti tutti noi non avremmo questo a suo merito neanche pur che la moto adesso sia a posto non avremmo mai pensato che lui arrivasse a correre in questo modo perciò il merito è suo è solamente suo bravo per rispondere a Pino non è che l'Italia ci rimane male ci sono rimasti male quella parte di italiani che pensavano che la Ducati potesse senza potesse far qualcosa senza Rossi è quella la verità scusate ma ho beccato la pagina parlavi della della copertina adesso è piccolina se la prossima gara la vince Rossi avrà più spazio di tutto lo spazio di tutto lo spazio è molto piccola mi chiedo scusa ma non sono capace di allargarla però questo è il grande spazio che hanno dedicato sulla gazzetta in prima pagina Dovi la foto ma voglio dire se avessi vinto qualcun altro tu hai bene idea sono sicuro che sarebbe stato di più all'interno però mi ha scritto guarda che la foto che dice perno non è così grande all'interno c'erano due pagine la gazzetta sta trattando la Ducati come va trattata benissimo parletto pino eccetera eccetera radio fatto allora aspetta aspetta brusco ti propongo questa cosa visto che sei brutto già di tuo ma sei allineato a noi voglio dire qua però vederti così ferma immagine che sei un pesce già abbiamo avuto un inizio in trasmissione devastante che mi ha mi ha segnato nell'animo nello spirito ci siamo ripresi utilizza la pubblicità per ricollegarti anche in video perché averti così come un pesce nell'acquario torniamo subito state lì e poi spari la tua bomba le emozioni non si possono raccontare entra da Harley Davidson Monza e vivile in prima persona nei 2200 metri quadrati della sua fantastica sede Harley Davidson Monza è diventata nel corso dei suoi anni di attività una delle concessionarie di riferimento del panorama harleyistico nazionale dove si può davvero respirare lo stile la tradizione Harley Davidson toccare la cultura custom e il motociclismo vecchia maniera Harley Davidson Monza propone un grande assortimento di abbigliamento e accessori oltre 50 motociclette in esposizione 13 ponti officina servizi di manutenzione trasformazioni omologhe gomme fino a 300 verniciature customizzate rimessaggio invernale banco prova potenza servizio di assistenza revisioni e test ride delle moto della gamba 2017 il tutto con uno staff super specializzato sempre pronto a darti il giusto suggerimento scopri servizi esclusivi di Harley Davidson Monza come il terzo anno di garanzia sulla moto nuova e la tessera gold che premia i tuoi acquisti su abbigliamento ed accessori con fantastici sconti è arrivato il momento infilati una giacca di pelle sali su una Harley Davidson e vivi la tua libertà adesso con Harley Davidson Monza in via Dante 231 a concorrezzo eccoci nuovamente in diretta mi sa che non siamo riusciti a stabilire il collegamento video ma audio c'è mi sono arrivate tra l'altro brusco delle indiscrezioni perché sembra che anche Suzuki abbia delle grandissime innovazioni tecnologiche volute fortemente da Andrea Iannone che sono Rimmele Botulino sulla sua moto e non è il mio è di Federico Polidori che saluto e ringrazio ciao Federico Rimmele Botulino vai a te invece brusco per le chicche allora guarda abbiamo molte cose da parlare possiamo raccontare la storia vera di Camarini possiamo raccontare tante cose e quello che volevo raccontarvi però un attimo perché l'altra volta mi ha provocato Pino il simpatico Pino simpatico e mi ha detto ma Radio Tavuglia cosa ti dice a te della vendita della Ducati e allora noi ci siamo scatenati e siamo e siamo e siamo e siamo e siamo e siamo e noi abbiamo scatenati però ci dobbiamo lavorare tutti insieme tutti insieme ci dobbiamo lavorare è una notizia che io non ho avuto modo di verificare però fino a tu la devi verificare con me insieme a Carlo Pernat ok e a tutti gli altri che ci sono la Fili Morris è interessata alla Ducati la? Fili Morris non si chiama più Fili Morris Altria si era detto qua Brusco qui Pino ti ha bruciato Pino ti ha bruciato hai preso un buco da noi non è sì l'ho buttato io che l'ho detto a te l'avevamo detto qua Brusco qua secondo me quelli che me l'hanno raccontato non più tardi di qualche giorno fa in ritardo mi hanno raccontato anche delle cose che io adesso sto andando a verificare e per questo stasera mi sono permesso di tirarla fuori cioè dinne qualcuna di queste cose guarda che un'altra cosa era la Ferrari che era interessata alla Ducati no prima poi abbiamo detto poi Carlo ha tirato fuori i Fili Morris io è giungo Bologna abbiamo parlato KTM abbiamo parlato della Tata anche gruppo indiano insomma per cui Brusco qua secondo me ai 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 vabbè però ci sta ci può stare però ci sta anche dei miei ritardo senti scusami volevo coinvolgerti su questo argomento poi dobbiamo passare alla Formula 1 che è densa di argomenti fortunatamente questo discorso tutta colpa di Yamaha che si riassume nell'attacco che Valentino ha fatto comunque neanche troppo velato insomma il fatto che Yamaha fosse rimasta indietro rispetto sia a Ducati che Honda dice siamo indietro dobbiamo lavorare se non ci danno una mano dal Giappone con l'elettronica siamo assolutamente dietro era abbiamo detto tutta colpa di Yamaha per capire veramente se secondo te anche sulla base delle indicazioni che hai vivendo lì insomma secondo me non era tutta colpa di Yamaha secondo me le colpe vanno equamente divise perché Yamaha è stata un po' in confusione perché all'inizio di stagione ha seguito le indicazioni di Vignales poi ha preso le indicazioni di Valentino e hanno fatto un mix che non li ha portati da nessuna parte poi qualcuno ha ritrovato probabilmente il bandolo della Matazza e adesso stanno andando abbastanza forte però dalla notizia che abbiamo noi è che a Misano il più veloce di tutti dei piloti Ducati sia stato Iorgio Lorenzo detto anche Lorenzo il Magnifico ok quindi attenzione che tra qualche giorno a Misano potremmo avere qualche bella sorpresa perché tre gran premi fa Lorenzo è arrivato 20 secondi dal primo due gran premi fa è arrivato a 6 secondi dal primo l'Aerogio è arrivato a 3 secondi dal primo quindi voglio dire siccome nella pista mi insegnate che quello che conta è il tronometro mi pare che i passi siano stati estremamente importanti per quello che riguarda me Brusco guarda qua ho detto che ho incontrato Iorgio e di cui siamo amici domenica ci hanno fermato e mi ha detto io a Misano faccio primo scommetti una cena con me io l'ho scommessa perché ho detto che faceva secondo vediamo chi vince la cena può darsi la perdiamo tutte e due adesso vi chiedo una cosa scusate scusate un attimo tanto per tornare a un tema parautomobilistico se ci fosse in testa Lorenzo no? e secondo Dovizioso la Ducati cosa fa? dall'ordine è dall'ordine io sono convinto di una cosa e l'ho anche scritto nel mio piccolo che Lorenzo sarà in grado nelle ultime gare di dare una robusta mano a Dovizioso l'ho già detto però potrebbe dargli alla contraria perché l'italico spirito che è quello di dare contro comunque anche questo giro va avanti e va avanti tranquillo però io nella mia memoria l'uomo te poi Pino sei l'uomo che ha portato qui il RID in casa Agusta voglio dire quindi hai molta più esperienza di me io non ricordo di aver visto un nemico di squadra i compagni di squadra che va per due volte sotto il podio ad applaudire il suo compagno di squadra che vince questo Lorenzo l'ha fatto piazzano agli italiani e io sono convinto che Lorenzo sarà in grado di usare le decisioni e vincere il mondiale ma dimmi come dimmi come sei in una gara ma cosa fa si ferma fa passare Dovi ma non succederà nemmeno se lo vedo ma per piacere a lui cambia la carriera comunque c'era Brusco aspetta ti vedo agitarti c'era Perotti che aveva un'osservazione molto ascolta da fare parlavamo prima che alla fine non è che gli italiani non sono contenti parlavamo prima che gli italiani non è che non sono contenti che non vinca Andrea non sono contenti quella parte che pensava che non era possibile che la Ducati vincesse senza Rossi o magari anche senza Stoner io non so comunque alla fine alla fine Patrizio stiamo vivendo un momento che nessuno nessuno di noi nessuno avrebbe mai pensato soprattutto con Andrea io sono d'accordo con te perché adesso tutti dicono che è bravo prima invece hanno detto sempre che mancava qualcosa te come tutti non hai capito io non ho mai detto nulla scusami mi pazienza fino a prova contraria io sono d'accordo con te ma fino a prova contraria non metterei più in conseguenza il discorso Rossi e Ducati allora Rossi purtroppo la metà degli italiani scusami la metà degli italiani purtroppo è solo pro Rossi questo è il problema ma nessuno ha detto niente questo è un altro discorso purtroppo non dico mica che sbagliano ma no ma non sto dicendo ci mancherà beato sportivamente è un campione allora se mi lasci finire ti spiego allora ti dico esattamente che secondo me la tifoseria ha preso un brutto vizio questo è il problema siamo andati troppo calcisticamente parlando questo è il problema cioè la tifoseria purtroppo è imbruttita da parte mia cioè guarda che allora ti dico questo questo è no ma ha ragione perché Rossi è la Ferrari eh capisci allora se poi vince Patrese la gente fischia Patrese esatto come è successo a Imola in quegli altri cioè guarda credimi il problema è questo il problema è questo quando la Ducati diventerà come la Ferrari e oggi alla conferenza stampa dell'automobile di Milano mi è rimasto scioccato che Malagro abbia detto che sono contento eccetera eccetera che abbiamo una Ducati e una Ferrari prima del mondiale benissimo meno male le cacce perché se lo vorrebbe cioè capisci non poteva non dire come hai dato una Ducati ma meno male che l'abbia detto cioè capisci il problema è questo secondo me io la penso in questo modo poi posso avere l'idea anche di Casoli e poi scusate ragazzi anche voi lì nel pubblico un attimo Casoli e poi torno a Bruscolini io non me ne intendo molto di queste cose perciò preferisco non ti sento sulla canotta slabbrata perché non me ne intendo molto va bene però la tua opinione ce l'hai dai no no non vuoi dirla va bene io vorrei capire una cosa Brusco sei sempre lì ma ragazzi ma stiamo parlando di un pilota Valentino Rossi che ha portato vabbè ma tu la metti come vuoi io la penso così ma non si può sempre parlare ma non ha detto che si può avete tirato fuori voi una domanda l'abbiamo appena detto abbiamo detto che Rossi è la Ferrari se lo vuoi basta finisce cosa volete di più non lo so io ok non ha detto niente Brusco io dico solo che Rossi è la Ferrari e se c'è un italiano che batte la Ferrari dà fastidio fine ma questo io la penso come te ok non la siamo più d'accordo ma non come te come lui aspetta uno per volta scusatemi la dichiarazione di Espeleta stranissima che ha paragonato Rossi al Drake alla Ferrari cioè un'estremizzazione ok andiamo a parlare di Formula 1 però prima saluto Brusco e Brusco anzi ti faccio io un regalo ti do la kick in anteprima così domani te la puoi vendere com'è ti spieghiamo cosa è successo su quel jet sul quale no basta perché non si è sentito prima non si è sentito dai ce lo spieghi no ma dacci la versione di Tavulia sul jet magari non c'era il jet allora a parte di scherzi non c'era l'altro non abbiamo sentito cosa è successo allora io poi dico quello che mi è stato detto dal pilota che gestisco Andrea fatelo fatto non l'ho mai gestito purtroppo vai in questo aereo molto probabilmente la signorina donna radigo si è fumato una Icos questa sigaretta elettronica elettronica il pilota di nazionalità bulgara da quello che mi hanno detto ha dato in escandescenze chiudendo direttamente la comunicazione la porta poi Patrizio giustamente mi dice che si chiuderà sola a quel punto ho detto quello che mi hanno detto vai 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 poi sarà che di Torriglia dove sono andato io cosa ne so poi a un certo momento quest'aereo ha cominciato a atterrare e questi qua si sono spaventati perché picchiavano contro non apriva nessuno e sta aereo a metà della trasvolata chiamiamola così aspetta tra dove tra Ibiza e un'isola greca e qua quando non si è sentito prima ha detto un viaggio di sofferenza il viaggio della speranza era un viaggio di lavoro perché la BN doveva andare in un posto a lavorare e non fate i blu trick ma di calabinieri e a un certo momento sto atterrato e sto trovato alla Mezia Terme con quattro pattuglie dei calabinieri perché sto qua l'ha denunciato dicendo che fumava è scoppiato quattro pattuglie ma perché sapeva che c'era Belen e probabilmente andiamo tutti là perché è vero che la notizia è uscita di Pesca cioè Iannone Iannone è chi? dimmi la verità ma ve l'ho detta se vuoi che gli dica di più quello che sai è questo quello che sai è questo posso dire una cosa? eh che dilla Carlo ci credi veramente te l'immagini la scena di Iannone della BN di speranza ma pare che lei sia andata nel panico perché puoi capire va giù l'aero ho capito ma tu sei aspetto di quelle donne no ma te l'immagini sei aspetto di quelle donne te l'immagini ma cosa ne sai va bene detto questo cosa ne sai allora Bruscolini ti abbiamo cambiato la vita stasera e te l'abbiamo cambiata un po' noi stasera di la verità guarda mi sono divertito molto avrei voluto parlare di Binder Guevara Ramirez settimana prossima settimana prossima te lo prometto la prossima volta compri un telefono spendendo 3 euro in più di quello che hai speso facciamo una colletta 6 e poi volevo parlare anche del rifiuto che hanno fatto viaggi ma di quelli parleremo la prossima volta ah bene quello è un temone quello lì è un temone cioè spiega cosa è successo perché è giusto perché ricordarlo sì doveva entrare in Moto3 l'anno prossimo l'avevi accennato tu per primo credo no in questa trasmissione sì con la Mahindra poi non c'è più avevamo accennato noi avevamo accennato che il team Aio avrebbe perso lo sponsor Red Bull che si sarebbe trasferito in Moto2 e MotoGP concentrato in Moto2 e MotoGP e il posto del team Aio in Moto3 l'avrebbe preso Max Biaggi con la KTM ok questo qui fino a quando l'IRTA che si è riunita nei giorni scorsi ha detto no a Max Biaggi io ve ne do un'altra comunque Max Biaggi il prossimo anno sarà nel Paddle del Moto Mondiale sarà nel Paddle del Moto Mondiale con un incarico ok e comunque andrà avanti e farà il campionato il CEV perché nel 2019 vuole arrivare comunque nel Mondiale perché gli hanno detto ma non hai fatto buoni riuscati il campionato italiano non hai fatto il campionato spagnolo Brusco c'è qualcuno qua che sa già tutto però è meglio che non parlo tu non parlare sappiamo che Max Biaggi non è un pilota allineato che è un rompiscatole che è uno che è meglio tenere lontano quindi voglio dire è normale che ma perché è meglio tenerlo lontano? lo sai cosa dovrebbe fare Brusco una bella cosa se di essere retta a me è uno che se gli dicono guarda che bisogna fare così non lo fa se non gli piace capito? ma meno male benvengono questi personaggi Brusco dammi a sentire siccome li ho parlato con Max un paio di volte anche in questi giorni lui ci avrebbe una bella strada se volesse farla ma non so se la vuole fare ed è quella dell'Apriglia essendo lui un bel personaggio Aprilia perché ha vinto tre mondiali nella 250 il superbike mi sembra qualcosa essendo un bel personaggio e non avendo l'Apriglia il direttore sportivo e solo l'ingegnere sarebbe un matrimonio bellissimo dove lui incomincierebbe a farsi esperienza e poi sarebbe il suo posto ideale senza andare a farsi tante pugnette scusa la parola nella strada dove ho detto direttore sportivo perché sa di modo Max Piaggi dai insomma va bene va bene grazie Brusco grazie per se l'ho lanciata anche questa buona serata a tutti ciao grazie Brusco un grande abbraccio ci vediamo settimana prossima e ti vediamo su Skip GP Skip GP allora qui arrivano delle ipotesi su che cosa si fumava ti posso ti lascio immaginare cosa mi stanno fumando dal pilota bulgaro i signori cioè di tutto sta arrivando il pilota bulgaro non l'ha fumato un giardino non ci stava va bene va bene grazie a Belen partiamo da Vettel dai ci state ragazzi mi mettete la scusami il video numero 6 number 6 number 6 ce l'abbiamo lì quasi quasi lo prendevo era una roba del genere se non mi ricordo queste sono ancora quasi quasi lo prendevo era lì era lì vicino l'hanno usato fino alla fine in realtà poi non è andata come i ferraristi speravano però è andata molto meglio di quelle che erano le aspettative prima del Gran Premio la cosa strana è che mentre Hamilton aveva una gomma soft quindi abbastanza per quel tipo di pista e per quella gara abbastanza dura e invece Fete aveva un tipo di gomma ultra soft che doveva essere molto più veloce quindi la mia idea è che Hamilton sia stato molto bravo nel gestire la gara però dentro di sé era abbastanza convinto di quello che stava facendo Fettel ha fatto una magnifica gara la Ferrari è migliorata tanto ma deve migliorare ancora un pelino ancora un pelino adesso poi con la storia dell'omologazione del motore in quella gara a Spa e non avendo aspettato Monza e con la possibilità di andare a consumare ancora il chilo e due d'olio nei cento chilometri migliori un po' tutto la potenza e la lubrificazione del motore quindi staremo a vedere cosa succede questa storia dell'olio è abbastanza cioè stanno ancora decidendo cosa fare per noi ha deciso ha deciso i tempi privati dalla Mercedes useranno 0,9 e invece la Mercedes ufficiale prima di quando scatta la regola e il che mi sembra abbastanza scandaloso però rimaniamo sulla gara vi prego perché queste cose magari ne discutiamo anche dopo però voglio rimanere prima sull'evento per quanto riguarda la gara e conoscendo bene la pista di Spa come d'altra parte Pino perché l'abbiamo fatta in bicicletta a piedi l'abbiamo proprio sperimentata in tutti i modi devo dire che specialmente in prova i tempi sono stati fantastici e la gara però c'è un però le macchine che sono là davanti praticamente sono solo quattro perché anche la Red Bull che sta andando bene da parte telaistica e parte aerodinamica con questa carenza di cavalli però qua vi apro una parentesi perché alla fine comunque si è messo dietro sia Richard sia Raikkonen che Bottas che poi io ho dedicato a lui proprio un argomento a parte perché secondo me di puntare dicevamo Rosberg Bottas uguale a Rosberg io non lo so io Rosberg con Bottas non lo cambierai mai Alessandro vai io non sono rimasto stupito della scelta di Hamilton di usare le gialle le gomme gialle che erano le soft per una serie di motivi prima la Mercedes è molto più aggressiva sulle gomme secondo la Mercedes in Q1 ha fatto il tempo a millesimi dalla Ferrari il secondo se mi ricordo bene o il primo addirittura con le gomme gialle la Ferrari aveva già le ultra soft quindi vuol dire che la Mercedes con le gomme gialle come sempre stato dall'anno scorso dove faceva diritto vanno fortissimo quindi perché rischiare perché rischiare quindi ha fatto una mossa intelligente quello che secondo me è la cosa che ha condizionato la gara è il fatto che Eruseo si fa radio chiamarmelo come vogliamo si fa pieno ormai si fa pieno dal terzo quarto giro visto quasi subito facilmente quindi praticamente il rettilineo inizia all'assurso uscendo in trazione e finisce al chemere questo ha condizionato la gara perché Hamilton furbissimamente si è fatto prendere la scia immediatamente da Fetter Fetter si è trovata la macchina in avanti non aveva che una scelta che spostassi se non lo tamponava con le conseguenze e in quel giro non poteva usare l'ala mobile e quindi si è preso tutta la resistenza della macchina l'altro ha sicuramente messo il manettino in posizione qualifica perché per un giro o due lo puoi fare chiaramente va a detrimento della vita del motore ma se ti giochi il mondiale prendi il rischio e lì è stato il punto della chiave la cosa sorprendente e bisogna riconoscere a chi l'ha scritto e non tanti l'hanno scritto è che il signor Hamilton mi hai di fianco uno mi sembra lui l'ha scritto in maniera lampante che il signor Hamilton la cosa che mi ha sorpreso di più è che ha fatto nei primi due giri in cui Fetter se stava nel secondo di distanza usava il DRS e quindi poteva vincere nell'S2 che è l'intermedio che va dal Kemel a Blanchimonte e quindi la parte guidata dove la gomma ultra soft aveva dato un grande vantaggio faceva dei tempi imbarazzanti dove la Ferrari per tutto il weekend era stata molto più veloce dove la Ferrari in qualifica era più veloce quindi vuol dire che Hamilton ha fatto chiaramente a quel punto lì Fetter non può stare vicinissimo perché sennò perde l'aerodinamica però la gara se giocata se Eruge fosse stata ancora da parzializzare sarebbe stata una storia diversa però Alessandro volevo anche aggiungere un'altra cosa che avendo Hamilton fatto quello vuol dire che la Mercedes ha alle spalle ancora qualcosa in più da poter dare sì ma la Ferrari ritmo gara e come ha dimostrato Bottas con Raikkonen la macchina è lì se la giocano io dico che secondo me io ho ancora un dubbio allora aspetta me lo dici dopo la pubblicità ritorniamo con il dubbio di Pino Allievi in pista su strada in fuoristrada è importante avere sempre un buon casco in testa sentiamo i consigli di Nolan Group vi presento X1004 il nuovo apribile di X-Lite che conferma ed arricchisce le già apprezzate caratteristiche del predecessore X1003 rispetto a X1003 questo casco si caratterizza per l'allungamento della mentoniera il che consente un miglioramento dell'abitabilità del prodotto e del comfort inzonamento inoltre il casco si caratterizza per una completa revisione dell'imbottitura interna di conforto il che offre dei benefici tanto in termini di comfort quanto in termini di insonorizzazione del prodotto in particolare l'imbottitura interna di conforto si caratterizza da un'innovativa costruzione a rete il che consente un miglioramento del passaggio dell'aria in provenienza dalla presa aria superiore nuovo è anche il design completo del paranuca X1004 il top per il mototurista parola di Lorenzo Salvadori libera la tua desmo emozione da Ducati Monza Monster Diavel Hyper Motard Multistrada Street Fighter Panigale la tua Ducati la trovi da Ducati Monza vieni a scoprire la nuova nata di casa Ducati la mitica Scrambler in tutte le sue versioni e personalizzazioni da Ducati Monza trovi anche una vasta gamma di accessori abbigliamento e finanziamenti personalizzati e per la manutenzione affidati allo staff di Ducati Monza il miglior modo per prendersi cura della tua compagna di avventure libera la tua voglia di due ruote scegli Ducati da Ducati Monza bene 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 eccoci qua in diretta ringrazio l'amico David Dilla Spezza che conoscete tutti lo salutiamo ci sta seguendo e mi fa Bob attento perché si sente tutto mentre siete in pubblicità si sente tutto su YouTube bello siamo rovinati si è sempre sentito e non abbiamo parlato della Belen della Saderini è la verità che diciamo bravo braviamo hai chiesto la Belen se cambiava il cognome il tuo onore in Belin non scaviamo allora Pino ci hai lasciato con tu hai un'idea giusto? no io ho un forte dubbio secondo me Vettel è cascato nella trappola io poi l'ho saputo dopo però avevo avuto sospetto che fosse uscito troppo presto di Hamilton al primo giro dopo la ripartezza ma secondo me lui doveva giocarsi tutto nel secondo giro quello in cui avrebbe potuto usare il DRS ed è lì che secondo me è mancato io dico una cosa il mio grosso sospetto è che se ci fosse stato Hamilton sulla Ferrari l'avrebbe divorato Vettel con la Mercedes no? sì al colpo dell'artista al colpo è il Maradona usa pochi colpi durante l'anno perché ogni tanto poi non c'è assente eccetera manca la costanza in Hamilton però però ha il tocco in più è il Senna perché Gigi scappinando anche palazzoni è un Senna costante Gigi perché tu hai visto la ripartenza che nervosismo che aveva fuori dentro dalla macchina per non fare lui ha sbagliato perché il primo giro ha sbagliato perché talmente era nervoso per non fare la figuraccia di Baku che è stato lì perché lui bastava che faceva come ha fatto Kimi pur che ha sbagliato con la bandiera gialla tanto non è il primo anno che corri non è il primo anno però ha paura di essere fregato con la ripartenza e l'ha fregato uguale Hamilton ha costruito il giochino a Radion l'ha costruito ancora quando era dietro la safety car perché ha cominciato a fare esattamente ma questo giochino si costruisce già dal car quando chiudi la cannella ma è l'altro a boccato perché ha cominciato a fare tutto quello per innervosirlo e l'altro tutte le volte così palazzoni no ma c'è anche da spiegare un'altra cosa che Fettel sapeva esattamente che gomme aveva lui e che gomme aveva l'altro e quindi Fettel i primi due giri erano ragione no appunto ma Fettel però era molto nervoso perché diceva ah io con queste gomme sono molto più veloce quindi funziona no perché le gomme con le gomme vedendo tutti i tempi durante il weekend con la gomma ultra soft il vantaggio ce l'hai 4-5 giri quindi tu c'hai 4-5 giri e mandi in temperatura prima ma siccome prima non può usare il DRS siccome la Ferrari va un pochino più piano in rettilineo era matematico che lui deve aspettare dal secondo al terzo il T2 nel secondo settore doveva stare lontano poi sbagliava sbagliava ma deve sbagliare lì posso chiedere una cosa alla luce di quanto è successo nel mercato Patrizio aggiungi su questo poi vi pizzi no volevo semplicemente dire ma noi non pensate che un pilota può anche ragionare cioè Fettel sicuramente ha paura di Hamilton perché Hamilton lo sappiamo tutti va vita persa in certe cose è bravissimo e come dice Pino è veramente l'uomo top ma vuol dire anche buttare magari via una gara cioè ragazzi guardate che non è solo esclusivamente può averci pensato è un mercato che è stupido l'abbiamo detto ma l'ha detto lui quello che sto dicendo l'ha detto pubblicamente Fettel sì ma infatti voglio dire giustamente perché c'ha ragionato cioè voglio dire è in termini di campionato c'ha ragionato dopo ma vabbè prima o dopo durante ma l'ha fatto dopo cosa glielo mi andeva da dire ma vabbè io sono convinto scusami stesso giro stesse gomme perché Bottas aveva le gialle ma è davanti Bottas è davanti lascia perdere Raikkonen che aveva la scia di due macchine che quindi era ultimamente però è passato per primo però Ricciardo che perde 15 km no nella ripartenza sta dicendo Ricciardo 10 km stessa scena arriva al Kemmela e sorpassa Bottas ha le gomme ultramorbide e va 10 km più piano Ricciardo ha fatto e Ricciardo è un killer nel sorpasso e ha fatto la mossa giusta Fettel non l'ha fatta e Fettel è più vicino in velocità massima alla Mercedes che Ricciardo alla Mercedes difatti su questo voglio sentirvi alla luce di quanto successo il rinnovo di Raikkonen sono tanti che mi dicono ma sono d'accordo i tuoi ospiti su questa scelta c'era qualcosa di meglio c'è qualcuno di voi che rimpiange al di là delle antipatie che ha Cantù per Hamilton che rimpiange il fatto che per tre anni Hamilton praticamente ormai credo sia per sempre a questo punto non arrivi sulla Ferrari io tu lo rimpiange anche Pino mi sembra di capire io dico che però va d'oltre non è detto che non arrivi come? non è detto che non arrivi dice a Gigi ma ne vado io voglio pensare voglio sperare che Marchionne metta Hamilton con Fettel e mentre prima Schumacher aveva il totale controllo della Ferrari io non penso che Fettel abbia una posizione così forte se no non avrebbe rinnovato però insomma un contratto da 30 34 milioni all'anno per tre anni se figli un top driver i soldi su quello anche perché Hamilton andare nella stessa macchina con Vettel è quello che lui vuole ma Vettel come lo avrebbe all'unso forse? come? no secondo me no a Spai i primi due giri l'apoteosi era all'unso è all'unso è fantastico per cui insomma abbiamo due due dispiaciuti gli altri Dario mi dispiace sicuramente sarebbe uno spettacolo bello vederli sarà duro vederli insieme però una precisazione sola volevo fare visto che si è sempre parlato ultimamente soprattutto che la Ferrari era rimasta molto indietro rispetto a Mercedes e tutto ma Mercedes sta vincendo grazie a Hamilton quindi i tecnici cosa ne pensano della situazione adesso Ferrari e Mercedes al di là dei piloti se la giocano in particolare di dove parti se parti bene e parti male se non più vanno uguali secondo me lui voleva dire un'altra cosa ti dico io la Ferrari è stata sorprendente come il recupero che ha avuto è stato incredibile perché in tutti gli anni passati la Ferrari è sempre calata in estate ha perso fior dei titoli mondiali in estate dal boreto in poi ma era proprio una tradizione come se andassero in ferie andavano anche in ferie adesso è una Ferrari che arriva dalla sconfitta di Silverstone e reagisce con un primo e secondo a Budapest doveva prendere una gran paga sulla base dell'esperienza di Grappiano Inghilterra a Spa e arriva presenta una macchina con un muso nuovo un fondo nuovo e una sospensione dietro molto modificata oltre a quella davanti con il terzo elemento modificato caspita va come la Mercedes quindi è questa la Ferrari che può puntare manca Hamilton e basta vado oltre facevo questa considerazione quando Marchionne decise di eliminare l'inglese e la corte degli inglesi tutti dissero compreso famosi giornalisti che non sono qui mettono la tecnica in mano degli sconosciuti bla 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 l'aerodinamico fa il GT allora la scienza è scienza se fai il GT e purtroppo la Formula 1 lo dico perché l'ho fatta è un ambiente molto autoreferenziale se non hai fatto la Formula 1 non conti niente e invece non è così perché ci sono dei tecnici favolosi vedi quelli che fanno le macchine per le mano o altre categorie è arrivato questo ragazzo che non conosco non so neanche come si chiami che faceva l'aerodinamica dei GT Cardile è un ordinatore il gruppo non aveva esperienza non è Adrian Nui che è grandissimo aerodinamico Adrian Nui ha fatto la macchina che l'aveva messo in pista il motore a parte era un cesso e quindi questi qui con scienza con lavoro con i numeri con le gallerie del vento con il CFD e tutto arrivano gara dopo gara coordinati in maniera arrivano gara dopo gara mette una roba sulla macchina e funziona e questa devo dirlo io non sapevo come andava a finire quando leggevo le critiche su Marchionale uno è portato a dire ha ragione e poi invece ci ha preso in pieno perché hanno ribaltato completamente uno status quo dove il gruppo italiano era dominato dagli inglesi e risultati ci sono ancora gli stranieri per l'amor di Dio perché si lavora in un ambiente internazionale ma la testa è italiana e questo mi fa una grandissima soddisfazione arrivo Gigi anche il clima all'interno in questo momento è fantastico Gigi Perotti Ingegner Mariani ha ragione ma soprattutto perché adesso a differenza di quanto c'era prima perché quello che tu dici è vero io ero uno dei primi sostenitori forse l'unico che avrebbe funzionato perché prima uno faceva l'aerodinamica andava dal motorista e diceva bene perché Martinelli non è che è stato stupido la prima volta ha messo le RS in mezzo alle bancate perché lo voleva mettere lì perché quell'altro ha fatto la macchina e la macchina è così devi metterci il motore e invece così non vai da nessuna parte adesso c'è gruppo prima di fare una cosa è possibile metterla lì è possibile fare questo se non è possibile è inutile non si spende forze a lavorare per niente quando c'è collaborazione c'è gruppo e la soluzione va avanti nella progettazione l'automobile l'hai sempre detto la parte più complicata succede con me i giapponesi delle volte ci sono delle barriere culturali perché i loro tempi sono diversi ma con grandissima fatica i risultati arrivano quando combini le due cose se ci credono dei gruppi che pensi che sia colpa di questo o di quello non vai da nessuna parte ok siamo d'accordo allora vi chiedo scusa siamo d'accordo quello non è in merito di Malchione è in merito di Binotto eccetera eccetera della gente che poi alla fine la fa è in merito di Binotto che ha fatto la scelta ecco certo ok allora vi fermo un attimo a rientro volevo spendere due parole su un duello che è andato forse al di là favoloso però forse un po' al di là quello tra Perez e Ocon che ormai se ne danno di santa ragione ma noi aspettiamo di vedere che si picchino fisicamente perché dopo queste cose qua non ci sta il posto dove è morto Bellof questo è veramente una roba pesantissima pesantissima per cui voglio farvi rivedere le immagini e parlare con voi di cosa avreste fatto se fosse stato il direttore di gara il compagno di squadra una parte e l'altra il direttore di squadra e poi due note sulla presentazione del Gran Premio di Monza che non possiamo non è che abbiamo tanto la politica sappiamo che per cui dopo Patrizio magari ci spieghi chi lo paga il Gran Premio di Monza che fa tutti i fighi i fenomeni e alla fine chi lo paga chi siamo chi siamo noi qua tutti ok esatto noi lo paghiamo e fanno i fighi loro torniamo subito Grande Renzo Nel 1981 per costruire strumenti tecnologici destinati al mondo dell'autoriparazione oggi Vamag continua a sviluppare nuove soluzioni in campo diagnostico per tutti i tipi di veicoli tre sedi operative ed oltre 60 addetti che studiano sviluppano producono e testano tutti gli strumenti garantendo ciò che contraddistingue Vamag sui mercati internazionali una qualità 100% made in Italy Vamag produce una linea completa di attrezzature per i professionisti dell'autoriparazione sistemi di nuova generazione per l'allineamento ruote e tutto quello che serve per i gommisti ma non solo banchi prova potenza per auto moto e veicoli pesanti linee di revisione complete come ad esempio i banchi prova freni il prova velocità l'analisi gas e tutto l'occorrente per completare i test voluti dal ministero dei trasporti sono inoltre disponibili tutti i software gestionali e gli applicativi per i centri revisione le officine di qualità Vamag European Quality È forza È grinta È off-road Ora SUV e Station Wagon sono una cosa sola Nuova classe E4 Matic All Terrain Lusso Sterrato Anche con Dynamic Lease il noleggio Mercedes-Benz con zero anticipo Canone fisso e 19 centesimi a chilometro Per la tua Mercedes-Benz Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus Ben ritrovati parte finale della trasmissione stasera iniziata con qualche difficoltà botte da orbita questi due Ocon e Perez ormai non se le mandano più a dire vi rivediamo un pochino che cosa è successo uno dei frangenti più pericolosi di questa gara non se le mandano più a dire ma non se le mandano più neanche a fare neanche a fare assolutamente in un tratto pericoloso perché evidentemente la salita che porta a Radion Rouge qui è veramente roba da per niente sì per un nulla si per niente per niente lo chiude in maniera pazzesca io non so da che parte stare da una parte dall'altra non si capisce però alla fine che cosa avreste fatto se fosse stati il direttore di gara io ho una bandiera nera qui l'avrei data secondo me cosa dite? intervengono sulle più grosse stupidaggini e non sono intervenuti all'inizio su questa cosa sul particolare no no scusate sul particolare che i due se ne menano fuori da ogni logica ma vi sembra che anche all'inizio è successo ma nessuno è la seconda volta all'inizio e alla fine vi vado a pescare l'altro incidente se mi dai nessuno ha meno identico pensa che uno ti passi uno per volta però parlate vi prego Alessandro vai tu poi gli altri vai ma lì si controlla allora che i rapporti tra i due siano da essere assolutamente gestiti dal team in maniera migliore fuori dubbio ma sul fatto particolare del secondo incidente io a Spa quando ho visto qualcuno che ha provato ha bollato subito perché lì non passi perché quello davanti si sposta tutto sulla destra guardiamo anche quello successo all'inizio della gara quindi non l'ha fatto apposta secondo me e non sto giustificando Perz che ha la testa calda sto dicendo che nel caso particolare forse non l'ha visto anche perché chi rischia di più non è Ocon ma la seconda volta ma è quello che ha all'esterno perché questa è esattamente la fotocopia dell'incidente che è successo però un pochino più avanti di Bellof con Jackie X quando Bellof morì con la Porsche ma non solo ma Sifert e Rodriguez con le 9-17 se le davano regolarmente proprio in quel punto cioè un conto d'accordo le vetture sport che sono leggermente più grosse eccetera eccetera però guardate che effettivamente i due qui stanno veramente rischiando grandissimi il primo per me non l'ha visto per me la prima volta non l'ha visto perché arriva veloce sulla sinistra la prima volta non l'ha visto la seconda si l'ha stretta a posto per farsi pensare però il problema è che lì ti amazzi si e ma si può rischiare anche di far male a qualcun altro oltretutto metti che c'è tre macchine dietro succede qualcosa come diceva Pino evidentemente evidentemente farsi lottando per il podio sai non capita mai posso capire però così assurdo se loro avessero richiamato Perez la prima volta ci sarebbe stato attento alla seconda penso che mi viene un incidente togli la mano dal microfono che ha rischiato che nessuno ci ha fatto voi delle moto nessuno di noi ha detto niente l'ultima curva tra Marquez Sedo Vizioso due domeniche fa ragazzi Marquez ha fatto una cosa che se la faceva un altro si beccava una squalifica per la gara dopo andatevela a vedere nessuno ha detto niente no no nessuno ha detto niente mettetela come volete lì se permetti con tutto quello che è andato di sanzioni ti becchi la prossima gara la seconda fila tre posti sopra se Dovizioso non è freddo e intelligente succede un macello lì come no Carlo Carlo all'ultima curva gli ultimi due curva andatevela a vedere bene tutt'amona di Francia comunque andatevela a vedere soltanto in Force India che ci sono questi rapporti nel team perché lo stesso è pari pari intorno a Rosso tra Kiat e Sainz secondo me il problema vero è che ci sono soltanto 20 posti in Formula 1 pochissimo turnover di piloti che entrano che escono e quindi quelli che sono lì si giocano la vita e non guardano in faccia nessuno questo è un grosso problema che quando c'erano 26 o 30 macchine non c'era perché poi trovavi la situazione però sono troppe 26 o 30 il numero raggiunto era 26 la Formula 1 è stata sempre fatta sui 26 troppi troppi adesso non c'è la forza di fare 26 ok volevo spendere due parole anche se non so se lo meritano ma fa niente le spendiamo per la presentazione del Gran Premio di oggi fantastica in pompa magna io purtroppo ero in giro a lavorare purtroppo non ho potuto finire e però Paddo anch'io come tutti voi per i Gran Premio ma Paddo che era rappresentato al massimo c'era Pinalievi c'era tutto c'era il nostro amico cioè diciamo che almeno uno che lavorava c'era di quelli di Paddo c'ero io che stavo lavorando noi eravamo là a ascoltare e a sentire quello che ci raccontavano quanto erano gonfi i nostri 40 gonfi e c'era tutto praticamente dal sindaco era un Gran Premio nuovo perché praticamente c'era il sindaco nuovo il presidente da Sconi il presidente della Sias nuovo tutto nuovo tutto nuovo e uno più bravo dell'altro e uno più bravo dell'altro e sono ringraziati a vicenda per un'ora e mezza e uno si autologiava più dell'altro davvero si sono ringraziati a vicenda uno per un'ora e mezza e poi hanno detto va bene ci è costato 68 milioni però adesso firmiamo ah gli sponsor non ce n'erano no 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 attenzione firmiamo finalmente l'accordo tra la regione Lombardia qui c'era Maroni che la gonfio e quindi Maroni finalmente ha firmato questi 15 milioni che non gli aveva ancora dato ma chi li mette lui fammi capire questi 15 li mette lui o chi li mettiamo chi li mettiamo chi li mettiamo non sono tanto quelli della regione Lombardia sono delle mie sono gli altri che arrivano da parte del Pra ecco questo è il problema ah il Pra allora il Pra chi è il Pra siamo noi siamo noi applausi noi che paghiamo Monza ma che bravi quindi abbiamo tenuto in piedi il Gran Premio a tutti i viettori a scomparire esattamente l'aveva detto Renzi esatto e allora spieghiamo bene c'è anche per Bob Dia la logica di ricontaballe come lui se scompariva il Pra voleva dire meno spese quando andiamo a cambiare la vettura meno eccetera spendevamo meno dei passaggi di proprietà adesso se compriamo una macchina usata un rottamento da 2000 euro spendiamo 700 euro di trapasto che paghiamo il Gran Premio di Monza ma grazie ma grazie Renzi ma grazie tu devi sempre pensare il contrario di quello che dice Renzi quello che dice Renzi è una palla quindi il contrario succede però oggi sono tutti gonfi il problema sarà tra tre anni scusate ma io non è che voglio fare la Cassandra pagherà Renzi però il problema è che Renzi non ci sarà più perché tra un po' il vetro cambia me non ti auguriamo ma nel fatto che qui così sarà un problema perché dopo di che voglio vedere chi arriva se il Pra rimane o non rimane quindi questo sarà un grosso punto interrogativo in tutto questo però hanno fatto un'altra furbata hanno cancellato Autodromo Nazionale di Monza lo chiameranno Monza Circuit Eni questo è veramente Monza Circuit Eni perché vuol dire che finalmente riporta il cane a sei zampe cane agi perché aveva addirittura sponsorizzato i piccoli formulini le 8.75 rientra ma questo grazie a chi? a Renzi ma grazie a Renzi a noi che paghiamo quindi ringraziate anche anche questa cosa per Monza C io non vorrei che paghiamo noi sì perché non vorrei che paghiamo Monza mi dicono ma tu ce l'hai con Monza io non ce l'ho con Monza io ce l'ho con la politica lo schifo che c'è tutto intorno io il Gran Premio lo adoro mi piace non amo Monza come quando ci correvo non mi divertivo non è la mia pista però non ce l'ho con Monza io ce l'ho con questo schifo qua che c'è in giro basta tutto il resto sono male volevo sapere visto che paghiamo noi il pass paddock che bisogna richiedere no devi chiedere la griglia di partenza libertimedia ah ok allora c'è un'altra storia bellissima che addirittura che coinvolge tutti gli amici del gli amici di Monza si si sono visti decurtare i biglietti da 500 che avevano in parabolica a 100 perché? perché evidentemente Liberty Media ha deciso che quando erano gratis con la 500 esatto 500 biglietti che loro per metà si vendevano e invitavano 150 disabili devo dire la verità a Monza a vedere il Gran Premio quest'anno i disabili purtroppo se lo vedranno in televisione perché avranno solo esclusivamente 100 biglietti qui per una storia che coinvolge che adesso è inutile rimangare all'interno della Sias coloro i quali erano i consiglieri che hanno che sono fatti la guerra tra di loro cioè sempre politico che robe belle proprio sport a me piace che c'è lo sport questa è un'altra bella cosa che ovviamente sta dietro le quinte di questo benedetto Sias che vabbè è lì non si capisce bene ormai è romano ma capelli c'è sempre Ivan c'è sempre vabbè ma ormai c'è Ivan ma è presidente dell'ACI di Milano che non c'entra più niente in senso che è proprietario ma la Sias è gestita dal presidente dell'automobile calvarese il nuovo presidente che è stato messo come Sias solo oggi ad esempio hanno fatto fino a hanno concluso la compagine per quanto riguarda i consiglieri è entrato Dossi che è un grosso industriale di Monza grosso appassionato vedremo se riusciranno a fargli fare qualcosa per il momento tutti gli altri non sono andati molto bene io vedo leggo il disappunto nello sguardo di Casoli che è disperato che appena siccome ha distrutto la BMW prima delle vacanze ha dovuto comprare un altro rottame usato come sempre 880 euro quanto hai speso il trapasso 880 euro e sai cosa hai pagato? punto sto contando ma adesso dice ma quegli 800 lì ma quegli 800 lì hanno parlato delle mie rottame aspetta 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 un attimo fino scusa cos'è dite noi che a noi ho chiesto se hanno parlato di eventuali modifiche della pista di cui si è parlato nel passato che la pista diciamo che ha qualche difettuccio ok e erano troppo impegnati incensate l'unico lavoro che hanno fatto hanno riasfaltato la pista che è il minimo perché voglio dire non tutto un tratto certo un tratto solo un tratto va bene gasolio sei disperata comunque disperato perché io del mio rottame ho preso 800 euro non ci ho pagato nemmeno il trapasso che serve per pagare che non vado nemmeno a Bonza vedermi la gara va bene va bene ok ci vediamo un attimo a rientro saluti e vi racconto quali sono gli appuntamenti del nuovo palisesto di La 6 sempre quando l'audio funziona se non funziona non vi arrabbiate sapete che siamo fatti così no il 288 è bello guardati bene nei traiettori mi devi saper dire la moto sei a posto come rapporto il motore la carburazione Motostar è la grande concessionaria Honda a Milano dal 1975 due sedi e tanta passione da Motostar trovi tutta la gamma di moto e scooter Honda 2017 moto e scooter usati di tutte le migliori marche del mercato garantiti e ricondizionati e poi vendita ricambi officina e assistenza con interventi rapidi e professionali Motostar due showroom a Milano in Viale Caterina da Forlì 24 e Viale Certosa 282 messaggio messaggio infuocato da Ciccarona all'indirizzo di tutti noi che abbiamo preso in giro Renzi perché noi paghiamo il gran premio poco da rompere le palle su Renzi senza governo avrebbero chiuso e poi tutti a piangere invece tutti insieme è stato salvato il GP e i posti di lavoro noi siamo contenti Paolo siamo contenti di questa cosa lo sai non pigliarci per dei bigoli ignoranti lo sappiamo però è il discorso che sta alla base di tutto che alla fine tu la pensi come noi secondo me quando poi sarai qua ne parleremo penso che alla fine il risultato è quello ma siamo contenti dei posti di lavoro ma ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro allora devo salutiamo Kimi ci sta guardando Raikkonen dai perché non possiamo dirlo il messaggio è molla sei io voglio capire cosa sta capendo Raikkonen di quello che dice Kimi what do you understand what we are saying now we spoke Belen smoking on the airplane William None the Bulgarian driver Kimi no change no no the police the police for carabinieri for Belen and smoke cigar no incredibile ciao Kimi sei un grande siamo davvero siamo strafelici allora vi voglio ricordare gli appuntamenti della palisesto di la sei vi ricordo che domenica saremo a Pomposa ci sarà la diretta streaming di tutte le gare sulla pagina facebook di Polini e anche sul sito la sei tv.it per cui tutto un pomeriggio di gare se avrete voglia dopo Monza insomma in concomitanza deciderete voi e poi lunedì sera alle 20.30 ricomincia Bob Gear martedì sera come oggi 20.30 Paddock le novità iniziano dal mercoledì mercoledì dopo il film commedia italiana quelle che ci divertono tantissimo dalle 20.30 alle 22.30 alle 22.30 ci sarà la prima puntata settimana pro anzi questo mercoledì con Beppe Gabbiani di storie di motori la seconda puntata registrata oggi con Casoli settimana prossima e presto tutti gli altri nostri amici di Paddock saranno presenti interviste di un'oretta giovedì sera 22.30 dopo il dottor Mozzi che questa settimana sarà in diretta dalle 20.30 alle 22.30 avremo invece le road races britanniche turistrofi northwest tutte le gare Astrid GP questa settimana una gara straordinaria non perdetela venerdì sera invece dopo la notizia trasmissione di politica che ricomincerà la prossima settimana avrete invece non mi ricordo più cosa c'è Bob Gear con i testa Capitan Valli e tutte le prove dei nostri clienti amici tutte le robe più strane sono dentro lì venerdì sera ore 22.30 e poi sabato domenica tutte le repliche ho ricordato tutto voglio sapere perché sei così pazzo e ci hai fatto questo regalo così carino costruendolo a mano e io visto che Ciccarone ci ha sgridato ai posti di lavoro saliamo tu che invece stai cercando un lavoro hai queste doti perché perché ci hai fatto questo dono così carino mi fai vedere la sua faccia mi interessa meno guarda che bello lo studio riprodotto allora io ho fatto questo per gli amici di Paddock sono tanti anni che vi seguo ed è un regalo che vi faccio con tutto il cuore e niente ho usato l'hai fatto a mano tutto con materiali di recupero tra l'altro mi dice sono piastrine per le zanzare stuzzicadenti perline di mia mamma retina della cipolla incredibile ci sono un po' vedo che hai messo anche della gnocca nel vinibolo hai messo la gnocca nel vinibolo che ci sta è messo la sigaretta elettronica spero però ci sono i filtrini delle sigarette bellissimo noi ti ringraziamo tantissimo io l'augurio che il più grosso ti posso fare ammesso che non sia successo niente in agosto che tu possa trovare un lavoro perché gente come te se la merita tutti lo meritano ma tu ha maggior ragione grazie mille per la passione e l'affetto con la quale ci segui da tanti anni grazie ragazzi ditemi ti sei dimenticato come al solito dell'appuntamento del venerdì alle ore 19 con motocross my passion per tifare il nostro Cairoli che domenica si gioca non fare come voglio dire diciamo che Rossi monopolizza anche perché è in lotta per il nono titolo che porta per il nono per il decimo è un'altra persona va bene comunque venerdì 19 venerdì 19 replica la domenica e lunedì sera dalle ore 23 per cui forza per Bev siete d'accordo perché due ore fa avete fatto lo stesso Siparietto e ti sei dimenticato il cross lo prepariamo per cui lo preparate prima assolutamente sono io paracuri io mi devo ricordare i suoi va bene ragazzi grazie mille ci vediamo domani sera ore 22 30 con Beppe Gabbiani ciao ragazzi buonanotte a tutti paddock de motosport magazine in collaborazione con grazie mille